Si chiama Elisha Nocia Wimitz, è un uomo il quale pensate che per colpa di questo coronavirus ti sta mettendo in ginocchio il nostro pianeta terra, ha scelto di correre per ben 42 km sul balcone di casa. Non fa quindi la maratona questo ragazzo sportivo per colpa del coronavirus, ma non si è dato per vento e ha fatto la corsa sul balcone di casa, lungo 7 metri e largo 1, in totale ha fatto 6.000 volte il percorso di andata e ritorno per correre 42 km. Protagonista questo ragazzo, ripeto, maratonista di nome Elisha Nocia Wimitz, che ha la raccontata poi su Instagram. Per 6 ore e 48 minuti l'uomo ha fatto un'impresa, ha fatto avanti e indietro nel balcone per colpa del coronavirus, quindi si vengono a cambiare drasticamente anche quelle che sono le abitudini umane, o meglio, anche lo sport va ad avere un taglio, va ad avere una, chiamiamola, stasi, un momento di tranquillità, tranquillità apparente. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate e complimenti a Elisha. Grazie a tutti.